Allora, qui sono i pappagalli, che ne manca uno perché me l'ha rotto la Leo la volta che è venuto il veterinario che ha fatto la matta perché aveva paura che gli doveva limare le unghie e avevo quello grosso come questo, bianco, così, cacatua e non c'è più, vabbè, pazienza quindi ho questi pappagalli qui, poi ho l'elefante Maxi, quello grosso, grosso, gigante poi qui scendiamo, ho il pesciolino tipo Nemo, il pesce palla colorato tropicale e l'orsacchiotto con la chiave e poi ho la coppia di tigri, la coppia di leoni e la coppia di scimiette questi sono i Toon Club, quindi sono edizione limitata e non sono vendibili praticamente in commercio ecco, sono dei Toon Club poi come Toon ho la mucca qui nella zona della televisione il coniglio gigantoso con un rocco piccolo che gioca palla e rocco grande che è questo qua l'orsacchiotto gigante, gigante, gigante con i cuori edizione San Valentino il Toon grande con i fiori edizione primavera, quello proprio gigante, gigante allora, il Toon maielino attaccato qua in cucina il Toon gnomo col fungo in cucina il Toon, quello lì praticamente il gufo aveva l'orologio al centro però l'ho voluto mettere in cucina quindi ho tolto l'orologio anche perché si sono scaricate le pile questo che è il piatto Toon che anche questo è un Toon Club con i due elefanti e il melograno che è nella zona del caffè ecco a voi l'ultimo Toon è l'angioletto che fa la nanna in camera da letto è l'angioletto che fa la nanna in camera da letto